Allora ragazzi calvi, perché adesso è il momento topico di farvi rilevare che la signorina Carolina Timangushi è l'unica protagonista assoluta di un evento che si svolgerà in capitale. Che giorno Carolina? Il 25, che giorno? Il martedì 25 della prossima settimana. La maschera degli dei è un filmato realizzato, è un film, un corto, un lungo, come si dice? Un mediometraggio realizzato dalla famosa Carolina, che noi chiamiamo Timangushi, ma invece si chiama Barsi. Noi adesso vediamo un estratto di questo filmato che la Carolina ci manda all-in. Mandemi un po', Carolina, che mi ami un po' a te, bravo io. Almeno, siate sinceri, ditemi la verità. Come vuoi prendere qualcosa di un indietro? La società dà, deve avere. Noi, mi controdo il signore, questa è una città che si tratta di un'occhio. Il città va. Achille, smettila, così mi fai paura. Stai forse chiedendomi. Dacci il mostro! Dritti Liberotti della Maschera Carolina Barsi, vi devo dire al pubblico che è il direttore della fotografia e il fidanzato della Sara, quindi stasera, come vedete, abbiamo mescolato le carte. Se avete piacere, martedì 25, in Capitale, a Lavagna, nell'auditorio Campodonico, potete andare a vedere questo mediometraggio. Allora, è il momento in grado pubblico di fare un vigoroso applauso al nostro uomo di lettere.